Castelmezzano. Ieri nella piazza abbiamo raccontato storie a proposito di Chisciotte, di quelli che gli somigliano. Ieri dicevo che Abramo, il padre delle tre religioni monoteiste, è stato un viandante, uno che si è spostato sempre e ovunque è andato è stato ben accolto. E dove è stato ben accolto ha prosperato e ha fatto prosperare quel luogo. Allora io considero l'accoglienza il grado uno della civiltà, rispetto al quale si può misurare il resto della qualità di un posto. E così ieri, a proposito di accoglienza e di ospitalità, mi sono ritrovato qui a Castelmezzano, in quella piazza, con le persone che mi hanno invitato e ho detto agli amici, beh, siamo arrivati nella civiltà. in cui appagio chiama in cui dispiace steve le tre von le pelle, si è frequentemente e abbiamo choices per i risultati, di pockets, viedade un'